Signor Sindaco, nel quartiere di Roiano c'è un grande cantiere, di che cosa si tratta? Guarda, c'è un asilo molto grande, bellissimo, tutto rotondo all'interno, con un giardino di 600 metri quadrati, per cui sarà in massima sicurezza per i bambini. Poi abbiamo realizzato 100 posti macchina, pensa che cambierà completamente il modo di muoversi a Roiano, e più tutto un parco urbano, naturalmente pieno di alberi, pieno di verde, una cosa fantastica, vedrai che piazza, naturalmente saranno abbattuti tutte quelle mura perimetrali che vedi adesso, all'interno c'è un cantiere, valla a vedere perché merita. La ringrazio. 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 La ringrazio.